La scandone per scacciare gli incubi delle cinque sconfitte consecutive, la striscia negativa da fermare subito per confermarsi dal grande impatto in A prima della sfida decisiva per il passo ottavi in Champions, la Virtus per riscattarsi dopo tre stop di fila tra Italia ed Europa, obiettivo rilancio per Avellino e Bologna domani alle 17 al Paladozza. L'ex Stefano Sacripanti non potrà contare su David Cournot e dovrà poi scegliere i lunghi stranieri da presentare nel referto di gara. Dall'altra parte, coach Nenad Vucinic spera che le nuove sessioni di allenamento dopo il K.O. con Le Mans abbiano garantito il riequilibrio per più aspetti. Maggior lucidità nelle scelte per Royal Seedings e De Monte Harper. L'impatto non poteva essere immediato. È di fatto la terza evoluzione del roster bianco-virde che lotta ancora contro diversi infortuni. Tante particolarità da superare in fretta. Il Monito l'ha lanciato lo stesso Vucinic con la fiducia nei suoi uomini per determinare velocemente il cambio di passo, prima nel contesto nazionale, poi in quello continentale. In poche ore due match in trasferta. Domani in Emilia, martedì in Lettonia, con lo sguardo rivolto senza dubbio anche alla Coppa Italia. L'equilibratore, Dimitris Nichols, punta al rientro nei giochi Final 8. Firenze pur dietro l'angolo va messa comunque in secondo piano. Step alla volta per Avellino, prima la Virtus e l'ex Sacripanti. Si riparte anche dal 90 al 96 dell'andata con vittoria a Felsinea. Sega Fredo Siligas sarà diretta dai signori Begnis, Grigioni e Vita.